Una buona giornata. Devo questo video a chi segue il mio canale. C'è qualche novità. La prima è positiva. È stata raggiunta la soglia dei 20.000 iscritti. Un traguardo importante per il canale e quindi volevo festeggiarlo, volevo ancora una volta ringraziare quelli che si sono iscritti, quelli che si stanno iscrivendo, del fatto che ancora credono in questo canale e che ancora mi danno fiducia. Avevo in qualche modo annunziato un'iniziativa, un incontro in occasione di questo evento, di questo fatto, insomma, dei 20.000 iscritti. Festeggiarlo magari con un incontro. Purtroppo non si farà. Non si farà non per mia volontà ma perché, devo dirvi, insomma, che è intervenuto un problema, insomma. Il problema è, diciamo, fisico, di salute. Non è un problema grave. È un problema di spalla. È un problema doloroso e fastidioso perché è anche un po' complicato. Insomma, che sto cercando in qualche modo di affrontare. ma il problema è che le spalle sono due e facendo questa attività si lavora molto con il mouse e lavorando molto con il mouse per elaborare, per correggere, insomma, le letture, per poterle presentare, insomma, e poi per tutto il resto, insomma, così si contraggono ancora di più i muscoli della spalla che in questo momento è l'unica che mi è rimasta buona. E quindi c'è anche un problema di dolore, insomma. È un problema di dolore abbastanza importante che limita molto i movimenti. Il problema è quel quale bisogna confrontarsi nella quotidianità, cioè in tutti i movimenti che poi ci si accorge che il braccio aiuta a fare. È un problema che sto cercando di affrontare che probabilmente avrà anche bisogno di tempi, di fisioterapia, queste cose qua, insomma, no? Per cui non sarò in grado, penso, di portare avanti l'attività del canale più di tanto. In altre parole, potrei anche leggere. Insomma, l'attività di lettura non mi impegna più di tanto, ma l'attività di lettura è un quinto di tutto il resto che serve per postare un video. Essendo che non c'è nessuno in questo momento che può fare l'altra attività, cioè quella di correggere la lettura, di sistemare il file, insomma, di renderlo presentabile, dovrò postare molto di meno. E questo ve lo devo dire. Poi c'è il fatto che ho tolto appunto molto materiale in seguito a quel fatto lì. Di questo un po' ne ha risentito il canale, no? Perché diciamo che gli iscritti da una media, il canale ti dà una media di iscritti al mese, insomma. Il canale era arrivato a oltre 1.000, 1.200 iscritti al mese in un determinato momento. Adesso, insomma, è molto sceso, insomma. Gli iscritti sono arrivati più o meno a 400 al mese, a una media di 400 al mese. Quindi vuol dire che, insomma, quello che si fa, quello che si offre ha una ripercussione in quello che succede poi del canale stesso. Adesso, ripeto, io purtroppo mi trovo in questa situazione adesso e non riuscirò a portare avanti più di tanto quello che è stata l'attività in questi ultimi quasi dieci anni, insomma, ormai che il canale c'è. Video di lettura nuove ne farò naturalmente molto meno, insomma, speriamo che le cose si sistemino, ma ci vorranno mesi. A meno che non ci sia qualcuno che si offre volontariamente e gratuitamente di, come dire, raccogliere dei file letti e di sistemarli, cioè di correggere, di fare tutto un lavoro, insomma, no? Che in genere negli studi di registrazione audio fa il tecnico, insomma. Ripeto, dovrò rinunciare a leggere molto, insomma. Magari leggerò qualcosa ogni tanto, ma dovrò stare molto meno, insomma, a seduto al computer, di quanto ci sto adesso. Se il problema dolore non interferirà, insomma, molto anche rispetto a quello che si fa, alla voglia di fare, insomma. Spero magari di fare qualche video parlato, insomma, di conversazione con voi, come sto facendo adesso. Colgo l'occasione per dire che quella che era stata la proposta che avevo fatto in un video precedente, quella di provare a leggere degli scritti che mi mandate e di, diciamo, arrivare a una pubblicazione che salti un po' tutto il mondo dell'editoria, no? Ovviamente quegli autori che non hanno vincoli con editori, insomma. Beh, di questa proposta è venuto fuori, diciamo, un esempio pratico che verrà pubblicato. Quest'autore aveva scritto un libro che aveva messo in rete. Il titolo di questo libro è Dispositivi sensibili. L'autore è un fisico e quindi fa in questo libro un po' di considerazioni un po' particolari sulla tecnologia, sul rapporto con la tecnologia, sul rapporto dell'uomo con la tecnologia, con quello che è tecnologico, con quello che sono i dispositivi tecnologici. Per il momento non verrà messo su YouTube. Questo audiolibro, di cui ripeto il titolo, Dispositivi sensibili, verrà messo in vendita a un prezzo abbastanza simbolico, di 2,99 euro. Il ricavato di questo libro, tranne quello che si tratterrà, la piattaforma in cui verrà pubblicato, verrà diviso in parti uguali, come avevo detto, tra l'autore e me. Purtroppo non sarà possibile ripetere questa esperienza con altri libri, almeno per il momento, per il motivo che vi dicevo, perché in questo momento non riesco più a fare questo lavoro, per motivi di saluto, insomma, così, diciamo, di spalla, non per mia volontà. Detto questo, cosa fare ancora del canale? rimarrà a disposizione tutto quello che c'è. Chi vorrà ritrovare parte del materiale che è stato tolto da YouTube, sempre accessibile gratuitamente, lo potrà fare, avrà la fiducia di iscriversi su quello che è il Facebook russo, che si chiama VK. Se si iscrive su VK potrà trovare, lo potrà trovare anche senza chiedermi l'amicizia, oppure mi chieda l'amicizia e poi vedremo. Non vorrei togliere niente ai miei iscritti e da questo punto di vista, magari, un po' alla volta, pubblicherò ancora su questa piattaforma, che, ripeto, è il Facebook russo e quindi, insomma, chi si iscrive dovrà avere fiducia su questa piattaforma di non essere... che non gli vengano rubate informazioni, non lo so, insomma, comunque dovrà fidarsi di questo canale. Io ingenuamente mi sono fidato e sto postando lì alcune cose mie, sperando che lì queste cose non diano fastidio a nessuno, visto che poi non compaiono, insomma, nei motori di ricerca, non compaiono nelle cose, quindi, diciamo, così. Che dire, questa è la situazione, no? Tra l'altro sto facendo anche un po' di esperienza con quella che magari ve ne parlerò in un altro video. Cioè, io che ero abituato alla medicina pubblica di 50-40 anni fa, ecco, mi sono trovato a lavorare, a vivere, insomma, in quell'epoca, diciamo, l'epoca addirittura precedente all'arrivo dell'ATTAC, almeno in Italia, insomma, è ovviamente precedente all'arrivo della risonanza e così via. Ecco, insomma, sto facendo un po' di esperienza con quello che è il sistema sanitario di adesso, insomma, quella che è l'efficienza, tra virgolette, della medicina pubblica, ma anche la difficoltà di entrare in questo sistema, di parlare in questo sistema, di mettersi in relazione con questo sistema. L'esperienza mi ricorda un pochino quella che c'è nel racconto di Kafka, insomma, no? Di quello che sta alla porta per entrare e il suo dialogo con il guardiano della legge, ma per adesso è soltanto qualche flash iniziale. Magari ve ne parlerò di questa esperienza. Il canale continua con il materiale che ha, ogni tanto posterò ancora qualcosa, ma non più con la continuità, con l'intensità di allora. Potrei leggere, ma non sono più in grado di fare tutta quell'attività, di dedicare tutto quel tempo e tutto quel lavoro che dedicavo prima al fatto di rendere la lettura poi presentabile per essere postata. Se qualcuno che abita dalle parti di Padova o che ha del tempo, ha la voglia di fare un lavoro con un programma per elaborazione dei file audio tipo Audacity che si può scaricare gratuitamente e ha voglia di farlo al posto mio, come dire, io posso leggere, se lui fa questo lavoro successivo che è un lavoro pesante, poi si riuscirà a postare ancora, insomma. Però se non trovo nessuno che mi fa questo lavoro, io mi devo un po' fermare. Non sono in grado più di fare tutto. Questa situazione potrebbe essere transitoria, forse se ne potrà venire un po' fuori, però credo che richiederà tempo, insomma, una lunga fisioterapia, non so che, insomma. E quindi non so quando potrà ritornare al regime di prima. Non so neanche se quando questo succederà avrò voglia di ritornare al regime di prima. Nelle fasi della vita, insomma, c'è un momento in cui si raggiunge un top, un massimo, un acme. Forse il top per questo canale può essere stato questo, appunto, nei 20.000 iscritti che abbiamo raggiunto. Adesso la constatazione è che anche prima di questa cosa qua, nel rapporto con gli iscritti, questa fase sia in una fase discendente. Ci sono dei limiti obiettivi che sono quelli un po' che vi ho detto, insomma, dell'avviso che ho ricevuto, non si può postare tutta la letteratura moderna, insomma, queste cose qua. Quindi all'interno di questi limiti l'attenzione al canale vedo che comunque diminuisce. Ci sono comunque tantissime altre cose che si possono fare, tutti i classici, dei classici francesi, dei classici inglesi, insomma, c'è tantissimo che si può leggere. Sono però cose che, queste qua, che si leggono, vanno lette, come dire, in integrale, sono impegnative, ecco, insomma, sono lavori impegnativi che richiedono un tempo, una dedizione che, non ho più, anche una concentrazione che deve prescindere da una situazione di dolore, come chi l'ha provato, insomma, il dolore della spalla è un dolore abbastanza importante, insomma, che poi, insomma, ti limita nell'attività quotidiana. Devo constatare che, insomma, nonostante un buon obiettivo, insomma, un obiettivo che non mi sarei neanche mai posto all'inizio, insomma, no, di avere, di raggiungere 20.000 iscritti, questo obiettivo è continuare una fase di salita, ormai è impossibile. Siamo in una fase di discesa, motivi li ho spiegati, e teniamo conto di questo. In questa fase cerchiamo di mantenere quello che si è raggiunto, cioè, il canale si vive, insomma, non ho intenzione di chiuderlo, però, come dire, quello che è la produttività all'interno del canale sarà sicuramente molto ridotta. Ne approfitto per dirvi che appunto in questa situazione in cui non riuscivo a lavorare materialmente, neanche a leggere, anche perché contemporaneamente è anche un problema di faringite. In questo periodo mi sono riascoltato e ho cercato anche di correggere piccoli errori e di risistemare per quanto possibile, perché purtroppo l'audio non è sempre buono nella registrazione di quel romanzo, ma mi sono riascoltato e ho provato un po' a correggere per quanto possibile l'audio dei Promessi Sposi. A me è piaciuto ancora, insomma, è la quarta, quinta volta che riascolti i Promessi Sposi e ogni volta mi emoziona, insomma, ci sono momenti in cui ti vengono anche le lacrime agli occhi. ho trovato che comunque nonostante la qualità c'è cuore nella lettura e siccome lo trovo un libro grandissimo ma ve l'ho già parlato insomma, no? Mi piacerebbe che lo provaste ad ascoltarlo insomma, anche voi l'ho concentrato in cinque video o sei insomma, in modo da renderne più facile la, come dire, l'approccio. Provate a riascoltarvelo. Sono stato abbastanza catturato un po' dal ritmo del romanzo e anche dalla lettura con l'eccezione un po' della qualità che purtroppo quando l'ho letto non era non era granché buona insomma e quindi quella va però una volta che si entra si supera anche la qualità ci sono tante cose che ti prendono in quel testo una cosa che mi piacerebbe fare insomma come argomento in una serie di prossimi video potrebbe essere quella di fare un commento dei promessi sposi un commento diciamo diluito magari capitolo per capitolo in cui in ogni capitolo affrontare quello che è un tema o una frase eccetera e commentarla facendone come dire un momento anche interdisciplinare insomma mettendola in rapporto con con l'attualità con la storia con 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 la psicanalisi con con quello che il tema in quel momento con la politica insomma con quello che il tema in quel momento offre insomma con fare una serie di incontri chiamiamoli così con voi attraverso il video magari capitolo per capitolo o dando un'idea anche dell'architettura complessiva dell'opera e all'interno di questi sviscerare soprattutto un aspetto insomma che si presta maggiormente ad essere commentato e sviscerato mi piacerebbe non so se riuscirò a farlo ma insomma questa è una cosa soprattutto per per far capire insomma qual è la la bellezza e l'importanza di questo di questo lavoro e siccome credo si studia ancora insomma no potrebbe essere un contributo che magari risulta utile anche agli studenti spero che riuscirò a farlo questo potrebbe essere uno dei momenti in cui poter ancora mettermi in rapporto con voi insomma poi qualcuno ancora scrive che ci sono delle code nelle parole che sono insopportabili no? vorrei spiegare a proposito di questo che le code che si sentono soprattutto in certi video non sono tanto degli trascinamenti di parole ma sono come dei fiati che rimangono che rimangono alla fine di certe parole queste code sono si sentono in maniera particolare uno se uno ci fa attenzione ma poi si sentono perché purtroppo tempo fa registravo per cercare di evitare diciamo i rumori che venivano dall'esterno registravo a un volume molto basso sbagliando ovviamente no? e quindi poi amplificando il segnale anche i fiati insomma alla fine della parola venivano amplificati e quindi si sente questa cosa che è di per sé fastidiosa è vero non è tanto legata a una cantilena finale quanto a una modalità che avevo purtroppo sbagliata di usare il registratore insomma e siccome con il registratore non registro in uno studio così l'esperienza la si fa da soli sbagliando quindi quelle cose diciamo che qualcuno definisce insopportabili di code finali soprattutto su certe vocali sono spesso legate proprio a questo a un a un difetto tecnico di registrazione più che non di dizione allora questa è la situazione del canale detto questo per il momento devo invitarvi a non a non inviarmi più materiale da leggere in questa fase non sono in grado magari se ritornerò a poterlo fare ve lo ve lo comunicherò cercherò di sistemare invece in questa in questa fase magari di migliorare un pochino la la qualità audio per quanto riesco eccetera di sistemare del materiale vecchio che è stato poco magari poco visto poco utilizzato insomma e che è ancora presentabile senza violare i diritti legati al copyright i diritti d'autore chi vuole seguire altro materiale che è stato tolto invece e che magari continuerò a postare magari lentamente su VK V di Venezia K lo può fare però per poterlo fare deve iscriversi in quella piattaforma VK che corrisponde da quello che ne so al Facebook russo altre cose da dirvi non ho ecco ogni tanto mi farò sentire insomma continuerò a postare delle cose però non più con il ritmo di prima se voi continuate a iscrivervi mi fa piacere ovviamente insomma il canale continua ad esistere forse con un po' di meno grinta rispetto a prima un saluto di meno